Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. In A11 in direzione Pisa tra il B1 Variante e Prato Est, segnalato un veicolo fermo in avaria. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze per la voglia al viadotto Ponzano. In A1 tra Roncovilaccio e Calenzano in entrambe le direzioni, prudenza per la presenza di personale su strada al lavoro. Sulle linee ferroviarie Firenze-Pisa e Pisa-Roma fino al 26 aprile, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea. Variazioni di orario anche con anticipi per alcuni treni regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!